Inizia nella maniera migliore la stagione dell'Arezzo Calcio Femminile. Le ragazze di Emiliano Testini sono andate a vincere a Trani nella partita di Coppa Italia. Il punteggio di 3-0 conferma la netta superiorità delle Amaranto che hanno condotto il gioco con grande padronanza della situazione. Già nelle battute iniziali Vittiarello con un'azione personale aveva costruito una buona opportunità. Il vantaggio arriva all'undicesimo e porta la firma di Razzolini che realizza su calcio di punizione. Al sedicesimo pericolose le locali con Ionda in contropiede. Trani ancora incisivo al ventiduesimo ma la conclusione a distanza di Cocis vede la respinta di Sacchi che conferma il suo grande valore. L'Arezzo raddoppia su calcio di rigore servita alla perfezione da Paganini. La Ceccarelli è travolta dal portiere in uscita. Dal dischetto Paganini si conferma Cecchino implacabile. La terza rete arriva a inizio di presa e porta la firma della Ceccarelli che realizza un lobby in una azione a campo largo. Per l'Arezzo un successo che conferma il valore della squadra che da dopodomani si allenerà. Castiglion Fibocchi